Questa mattina avete fatto il tampone, com'è andata? Dai, bene! Il motivo per cui l'hai fatto? Perché se sono positiva vorrei evitare di attaccarlo a qualcun altro. Ho persone anziane in casa, quindi per prevenire l'ho fatto. Il ritorno a scuola è avvenuto in sicurezza, siete contenti? Sì, anche io l'ho fatto perché ho avuto mio zio che è stato male per molti mesi e visto che sono anche dai miei nonni quotidianamente volevo farlo per essere sicura di stare con loro al meglio. È un'offerta gratuita e poi è sempre meglio prevenire che curare. Io ad esempio ho fatto il tampone perché mio padre ha dei problemi respiratori perciò se risultassi positiva vorrei un secondo e avere una sicurezza e stare lontano da lui per non attaccargli nulla. Ho fatto il tampone per essere sicuro di essere negativo perché a casa ho anche i nonni e vorrei non attaccargli il Covid. Soprattutto per tenere in sicurezza i miei compagni di classe, ritornare a scuola e imparare in sicurezza e anche per tenere in sicurezza i miei genitori. Come è andato il rientro a scuola? State tutti distanziati? Si sono organizzati bene? Sì, si sono organizzati abbastanza bene. Adesso per esempio in classe siamo distanziati fra i banchi e quindi si è riuscito a ritornare un po' vicini, il più vicini possibile alla normalità.